Soldi! 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 Ebbene sì Gab, finalmente parliamo di soldi. In questo video vediamo come si producono e ti insegno qualche trucchetto per capire se la banconota è vera o falsa. In totale sono 11 le cose da guardare. Benvenuti a un nuovo episodio di FIGO NON LO SAPEVO! Tu che stai guardando questo video, sei iscritto. Sappiamo che molti di voi che guardano i video di GioPop in realtà non sono iscritti al canale. Quindi, se non l'ho ancora fatto, iscriviti. Per noi è importantissimo, perché ci permette di crescere. Il tuo supporto è fondamentale. Torniamo al video. Finalmente un video sui soldi! Il mio argomento preferito! Lo so Gab, ti ho fatto una sorpresa. Vai, chiedimi tutto quello che vuoi sui soldi. Come si fanno le banconote? Come vengono stampate? Di che cosa sono fatte? E se si bagnano? Sono da buttare? Gab, un attimo, stai buono? Andiamo con ordine. Partiamo da come sono prodotte. Che ne dici? Ti piace come idea? Va bene, va bene. Il primo passaggio è creare la carta. Tiè, il primo passaggio è fatto. No, serve una carta apposta, che in realtà viene fatta con il cotone. Lo vedi questo? È il cotone con cui si crea la carta per fare le banconote. Su questa vengono poi applicate la filigrana e un filo metallico. Come vedremo dopo, sono due delle caratteristiche che permettono di distinguere un falso. Viene anche applicata una striscia metallica, causando pressione e calore. Dopo aver fatto questo, le bobine di carta con le banconote vengono tagliate in grandi fogli e trasportate nella zona dedicata alla stampa. Com'è fatta la stampante? È come quella che ho io a casa? No, Gab, non è come quella di casa. Ah, e allora com'è? Fammi vedere questa mega stampa soldi. In realtà non è una sola stampante, ma sono quattro diversi sistemi di stampa. Il primo è quello che si chiama stampa offset, che permette di applicare tramite una coppia di rulli lo sfondo multicolore su entrambi i lati della banconota. Il secondo passaggio è quello della stampa serigrafica, cioè si applica sulla banconota un numero con il suo valore, usando uno speciale inchiostro color smeraldo. Anche questo è un metodo contro la contraffazione, ma ne parliamo dopo. Il terzo passaggio è quello della stampa in taglio, che permette di creare delle porzioni della banconota in rilievo, come queste tacchette, che vengono utilizzate dalle persone ipovedenti per riconoscere le banconote. Il quarto e ultimo passaggio è quello della stampa tipografica, dove si applica un numero seriale composto da due lettere e da dieci numeri. La prima lettera corrisponde al paese nel quale è stata prodotta la banconota. In questo caso la S indica che è stata prodotta in Italia. Ah, ma quindi ogni banconota è unica al mondo! Esatto! Una volta stampati i fogli, prima di tagliarli per fare delle banconote vere e proprie, vengono ispezionati a campione. Si fa quindi una serie di test per analizzarli e vedere se ci sono errori, sbavature o imperfezioni. E dopo la stampa che cosa succede? Come vengono tagliate le banconote? Vuoi dirmi che c'è un Giovanni Mucciaccia con le forbici dalla punta arrotondata che taglia tutte le banconote? No, anche se sarebbe bello. Ciao Giovanni! Dopo la stampa i fogli vengono in realtà inviati ad una macchina che con estrema precisione taglia prima i pacchi da 100 fogli in strisce e poi in singoli mazzetti. Poi guarda, fanno una roba fighissima. Alla fine le banconote vengono messe in questa macchina che le conta e le controlla una a una e verifica che siano tutte uguali. Wow! E poi che cosa succede? Per essere proprio sicuri sicuri che sia tutto ok, delle macchine contano un'ultima volta tutte le banconote. Un'altra volta! Eh, oh, quei soldi non si scherza. Dopo averle contate di nuovo le impillano, le avvolgono nella pellicola e le mettono in un cavo. Tra l'altro un cavo pazzesco, ha delle pareti enormi. Ma che roba! Maxima sicurezza! Ste, ma un'altra domanda. Ma se mi finisce una banconote in lavatrice, che faccio? L'ho persa per sempre? Ma no, le banconote sono progettate proprio per resistere ad un sacco di inconvenienti domestici. Resistono al lavaggio in lavatrice, allo stiraggio, alle alte temperature e al congelamento. Nel caso te lo stessi chiedendo, resistono anche all'attacco di sostanze chimiche e allo stropicciamento. Insomma, per rompere una banconota o la strappi di proposito, è abbastanza complesso farlo. Diciamo che le banconote sono un po' tipo Bear Grylls, resistono più o meno ogni situazione. È vero che ci sono dei modi per capire se le banconote sono vere o se sono false? Sì, assolutamente. Vuoi vedere come si fa? Ma certo! Ma lo sapete che siamo anche su Instagram? Lì ogni giorno pubblichiamo contenuti esclusivi, approfondimenti, news, quiz e contenuti esclusivi. Quindi se vi va e non lo avete ancora fatto, seguiteci, ci vediamo là. Partiamo dal presupposto che i vari tagli di banconote hanno delle caratteristiche diverse da guardare. E noi prenderemo come esempio il 20€ e vi faremo vedere quali sono gli 11 elementi da andare a controllare per capire se la banconota è vera oppure falsa. La prima cosa da fare è toccare la banconota. Così? Ecco. Bisogna assicurarsi che la banconota abbia quindi la giusta consistenza, deve essere abbastanza resistente e fare questo rumore. Poi, passando ad una prova di tatto, se proviamo a passare il dito sulla banconota, ci accorgiamo che ci sono alcune zone in rilievo. Ad esempio ci sono le tacchette ai lati della banconota, il numero principale, la figura centrale e questa piccola scritta laterale. Ma che figata! Ma ci saranno anche altri modi per vedere se la banconota è falsa, vero? Esatto. Ad esempio, prendi la banconota e metti la controluce. Sono comparse delle cose! Esatto. Ad esempio, sulla sinistra vedrai la filigrana con il volto di Europa, una finestra sullo sfondo e il valore della banconota stessa. In questo caso, 20€. Tra l'altro, se la banconota la appoggi su una superficie scura, vedrai che le parti di filigrana che prima erano chiare, ora sono diventate scure. Pazzesco! È incredibile. Poi al centro della banconota, sempre tenendolo in controluce, si deve vedere una sottile striscia nera. Al suo interno deve esserci scritto in piccolo sia il valore della banconota che il simbolo dell'euro. E questa, invece, è trasparente? Sì, in alto a destra, in tutte le banconote, tranne in quelle da 5 e in quelle da 10, c'è una piccola finestra trasparente. Anche qui dentro si vede il volto di Europa e deve essere trasparente da entrambi i lati della banconota. Ora, invece, prova a inclinare la banconota. Ma che figata brilla! Hai visto? A sinistra, le varie finestrelle sulla striscia metallica dovrebbero iniziare a cambiare colore perché sono olografiche. Ah, tipo le marche da bollo. Esatto, sì, tipo le marche da bollo, ad esempio. Un'altra cosa super interessante delle banconote è che hanno questo numero... Aspetta, te la prendo. Un'altra cosa super interessante delle banconote è che hanno questo numero color smeraldo che, se incliniamo la banconota, cambia colore. È fatto con uno speciale inchiostro. Se la inclini, infatti, vedrai che c'è una banda di colore più chiaro che si muove solo su e giù. Adesso so che cosa devo guardare. E questi che ti ho detto sono solamente i metodi più semplici per analizzare una banconota. Quelli che, insomma, possiamo fare tutti a casa. Ci sono però anche caratteristiche avanzate sulle banconote, come ad esempio delle zone stampate con dei microtesti in alta definizione oppure aree visibili solamente con gli infrarossi. Ah, tra l'altro, una cosa fighissima che mi stavo dimenticando di dirti. E cosa succede quando punti la luce ultravioletta sulle banconote? Perché? Che cosa succede? Guarda, la banconota diventa tutta scura, tranne delle aree che improvvisamente si colorano di giallo, di verde, sia sul fronte che sul retro. Oh cavolo! È incredibile. E proprio sul retro, tra l'altro, il numero seriale diventa rosso e si forma una striscia rossa centrale. Dentro a questa ci deve essere scritto il valore della banconota. Top gang! Top gang! Ed è vero che i soldi sono sporchi? Allora, mettiamola così, non sono la cosa più pulita del mondo. Pensa che secondo uno studio dell'Università di Oxford, su una banconota sono presenti in media 26.000 batteri. Ora, questo non vuol dire che se tocchiamo le banconote, oh mio Dio, ci ammaleremo! Assolutamente no! Però ecco, magari se tocchi una banconota, lavati le mani se ne hai la possibilità. E comunque, vuoi sapere una roba un po', un po' così? Eh, dì, dì! Le banconote da 5 euro, che sono quelle più utilizzate, sono state fatte grigie apposta per nascondere lo sporco. Cioè... Ma dai! E pensa che, non lo dico io, eh, ma la banca centrale di Francia? Pazzesco! Oh, Ste, posso farti un'ultima domanda? Giuro che è l'ultima. Va bene. Ma perché la moneta da 50 centesimi è più grande della moneta da 1 euro? Allora, se hai fatto una certa, io chiudere anche quel video. Ma se volete un approfondimento sulle monete dove rispondiamo a tutte le vostre domande, questo video deve raggiungere almeno 50.000 like. Eh, ma no, eh, ma è tantissimo! È tanto. Ma 50.000 like? Lo so, è tanto. Però dobbiamo fare delle animazioni illustrative apposta, perché non ce ne sono sull'argomento? Ed è una cosa che richiede un sacco di tempo. Quindi dobbiamo essere sicuri al 100% che a voi interessi. Grazie ragazzi per essere stati con noi, spero che il video vi sia piaciuto e noi vi aspettiamo qui, su Geopop, le scienze nella vita di tutti i giorni. Ciao! Grazie a tutti!